R.P.G. State giù! In arrivo! R.P.G. 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 Santa merda. Wow, guarda che posto. E così esiste davvero. È incredibile. Chissà che dramma doverla lucidare. È enorme. Oh, ehi. Sono riuscito a riprendere il tuo diario da mano. Pensavo fosse utile. Il lupo perde il pelo. Sally, qua su. C'è qualcosa. Merda, è bloccata. Nate, ce n'è una anche di là. Vado e provo a farla funzionare. Su, sta qui. Nate, devi raggiungere l'altra leva. Ci sono quasi. Pronto? Vai! Per dirlo alla Victor Sullivan, che mi venga un colpo. Porca vacca. Allora, è qui. Wow. Victor Sullivan, benvenuto a Ubar. Incredibile. È così che la città è riuscita a prosperare. questo posto deve essere collegato a una sorgente sotterranea. È pulita. È incredibile che funzioni dopo tutti questi anni. che non fa Davvero impressionante. Cosa? No. Ti prego. Falli. No. Ti prego. Falli. No. 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 Sì. Talbot, torna qui, l'urido figlio di puttana! Sei morto! Mi hai sentito, sei morto! Torna qui, brutto! Così? Dov'è andato? È impossibile. Dov'è cazzo sono? Stegartaghena. Non venivo qui da quando ero un ragazzo. Che succede? Oh merda! Oh no! Oh no! Non può essere vero. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Cosa? No! 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 Pat, ti prego. Oddio. Oh no, che cos'è? Tutto. Si muove tutto. Devo andarmene. Devo andare via. No, no, no! No! Non ce la faccio. Che cos'è? Che succede? Tu succede? Oh no! Oh no! Devo chiederli!